Ivan IV il Terribile, il primo zar di Russia Ivan IV Vasi Levi, 25 agosto 1530-28 marzo 1584. Noto anche come Ivan il Terribile, fu il primo zar di Russia. Regnò dal 1547 al 1584 e fu una figura complessa e controversa. Fu un abile stratega militare che espanse notevolmente i confini del suo impero. Ma fu anche un tiranno spietato che fu responsabile di numerose atrocità. Ivan nacque a Kolomenskoe, vicino a Mosca, nel 1530. Suo padre, il Granduca Vasilij III, morì quando Ivan aveva solo tre anni, e sua madre, Elena Glinskaya, fu esiliata due anni dopo. Ivan fu lasciato alle cure dei boiari, l'antica e potente nobiltà russa, che lo governarono in modo incompetente e corrotto. Ivan trascorse i suoi primi anni vivendo in povertà e paura. Fu vittima di abusi fisici e psicologici da parte dei boiari, e spesso fu minacciato di morte. Questi eventi lo segnarono profondamente e lo portarono a sviluppare un carattere instabile e violento. Nel 1547, Ivan, all'età di 16 anni, fu incoronato zar. Questo evento segnò l'inizio del suo regno. Ivan si impegnò a modernizzare la Russia e a renderla una potenza mondiale. Ivan iniziò la sua riforma del governo russo introducendo il Consiglio dei Boyar, un'assemblea di nobili che doveva consigliare lo zar. Ivan creò anche un nuovo sistema di tassazione e un esercito permanente. Ivan si interessò anche alla cultura e all'istruzione. Fondò la prima università russa, l'Università di Mosca, e promosse l'arte e la letteratura russa. Ivan fu anche un abile stratega militare. Sotto il suo comando, l'esercito russo sconfisse i tartari di Kazan e di Astrakhan, due stati musulmani che minacciavano la Russia. Ivan conquistò anche gran parte della Siberia, espandendo notevolmente i confini del suo impero. Tuttavia, il regno di Ivan fu anche caratterizzato da violenza e repressione. Ivan era un uomo sospettoso e paranaide, e vedeva nemici ovunque. Nel 1565, Ivan istituì il periodo dei terribili anni, un periodo di terrore in cui migliaia di persone furono uccise o imprigionate. Ivan fu responsabile di numerose atrocità, tra cui l'omicidio di suo figlio maggiore, Ivan Ivanovi, e della sua seconda moglie, Marfa Vasilevna Sobacchina. Ivan morì nel 1584, lasciando il trono a suo figlio Fedori. Il regno di Ivan il Terribile fu un periodo di grandi cambiamenti per la Russia. Ivan modernizzò il governo e l'esercito russo, e espanse notevolmente i confini del suo impero. Tuttavia, il suo regno fu anche caratterizzato da violenza e repressione, e Ivan è ricordato come una figura complessa e controversa. Eredità L'eredità di Ivan il Terribile è ancora dibattuta oggi. Alcuni storici lo considerano un grande sovrano che ha modernizzato la Russia e l'ha resa una potenza mondiale. Altri lo considerano un tiranno spietato che è stato responsabile di numerose atrocità. Indipendentemente dalla sua valutazione, Ivan il Terribile è una figura importante nella storia russa. Il suo regno ha avuto un profondo impatto sullo sviluppo della Russia e il suo nome è ancora conosciuto in tutto il mondo.